Nel video di oggi andremo a visionare la funzione regroup a pair, oppure group by se avete software in inglese. Ci permette di ottenere un risultato similare a quello che ci dà la tabella pivot, però ha dei pro e dei contri. Quindi in questo video cercheremo di approfondire e capire bene perché ci può tornare utile questa funzione, oltre a cercare di capirla veramente nel profondo, con tutti i suoi parametri e le sfaccettature con cui possiamo compilare i parametri della funzione. Vediamo che qui abbiamo una base di dati di partenza, qui abbiamo il risultato fatto con la formula regroup a pair, e qui abbiamo la classica pivot. Un primo esempio di vantaggio della funzione regroup a pair è l'aggiornamento istantaneo. Se ad esempio andiamo qui e andiamo a cambiare il valore di questo campo, qui vedete che ho ottenuto immediatamente il risultato senza dover fare niente, la tabella pivot invece dovrei fare un clic destro, aggiorna per ottenere il risultato. Facciamo un po' di ctrl z. Qui sotto vi ho messo un elenco, per chi può scaricare i file lo trovate in descrizione, così potete anche poi esercitarvi, avete tutte le nozioni che ho messo qua. Tutti i parametri che sono disponibili nella funzione regroup a pair, quindi parametro, una descrizione del parametro, e qui come compilare poi il parametro, che adesso andremo a fare qualche esempio. Quindi qua c'è scritto un po' tutto, vedete che sono tantissimi i parametri. Ovviamente se andate nella funzione regroup a pair e schiacciate su regroup a pair, sull'etichetta che compare sotto, compare la guida di Microsoft che vi spiega un po' tutto. Quindi è similare a quello che ho compilato io, ma quello che ho fatto io è un po' di più. Quindi ci sono più cose che poi adesso andiamo a spiegare all'interno del video. La funzione regroup a pair che cosa ha? Ha tre parametri obbligatori, perché vedete non sono sulle graffe, quindi questi tre parametri li dobbiamo dare obbligatoriamente. Tutti quelli con le quadri sono opzionali e hanno un parametro di default se non vengono compilati. La funzione regroup a pair, che cosa fa se andiamo a verificare un po' come funziona anche la tabella pivot? La tabella pivot ha praticamente quattro riquadri, i filtri, le colonne, le righe e i valori. Il regroup a pair gioca con il riquadro delle righe e il riquadro dei valori. Se volessimo giocare anche con il riquadro delle colonne dovremmo utilizzare la funzione pivot per, che è un po' più evoluta, è identica praticamente al regroup a pair, solo che ha anche i parametri per gestire le colonne. Il riquadro filtri è disponibile sia sulla regroup a pair che sulla pivot pair e lo vediamo alla fine come utilizzare questa cosa completamente in automatico e anche con gli slicer, che è veramente una cosa molto molto bella e interessante. Allora, il primo parametro che dobbiamo dare alla nostra funzione sono le righe, quindi le nostre colonne di attributi che vogliamo andare a disporre, che sono appunto reparto e regione. Se vedete io qua prendo la colonna A e la colonna B, parto dal record 1 al B16. Se vogliamo andare a dare come risultato il nome dei campi originali, partiamo dal record 1, quindi inglobiamo nel nostro perimetro anche il nome del campo. Se non ci interessa il nome del campo perché vogliamo fare qualcosa di personalizzato che dopo i nomi dei campi ce li diamo noi, possiamo partire direttamente i dati, quindi potremo partire dal record 2. Quindi per selezionare i campi io do da A1 a B16, che così prendo questo perimetro. Adesso io sto usando una base dati normale, ma ovviamente potrei anche andare a prendere una tabella, un oggetto tabella, e quando vado a compilare il regroup a pair, poi vado a identificare i campi con i nomi degli oggetti della tabella, che è una cosa diversa. Difatti in questo caso con gli slicer, poi capiremo meglio come funziona, ma ci dà un vantaggio in più se andiamo ad utilizzare l'oggetto. Adesso io per praticità e avere la formula un po' più compatta sto usando una base dati classica. Quindi qui stavamo dicendo che stiamo prendendo queste due colonne, quindi quando vado a dare invio ottengo un risultato a questi due attributi. Se volessi ad esempio andare a concatenare questi due valori, che cosa faccio? Vedete che qua su, qua giù ho le varie opzioni che posso fare, potrei andare qui e di lì, no, guarda, non voglio avere due campi separati, ma li voglio avere uniti, quindi qua li potrei dire, guarda, prendimi da A1 ad A16, ok, e qui li faccio semplicemente un end, e gli dico prendimi il B, oppure prendiamo il periodo, prendiamo la colonna D che è il periodo, che è questa qua. Ok, quindi in questo caso vado a concatenare, se ci facessi uno spazio così e concateno, ok, un'altra con un end, con un end vado a concatenare, quindi qua vado a ottenere una matrice con una stringa che va a concatenare due campi. Quindi se faccio invio, vedete che ottengo casa Q1, casa Q2, elettronica Q1 e così via, e qui anche il nome del titolo lo prendi in automatico, reparto periodo, ok. Ad esempio se dovessi farlo con la pivot, o dovrei cambiare il tipo di pivot, quindi le proprietà di pivot per vederli magari nidificati, oppure dovrei fare un campo calcolato, questo è un esempio. Un altro esempio è che ad esempio posso andare a giocare con il contenuto dei miei campi, quindi ad esempio prendiamo appunto anche solo il reparto. Ipotizziamo che voglio estrarre i primi tre caratteri, comunque devo fare un ragionamento per avere un risultato differente da quello che ho sulla colonna originale. Con la pivot tradizionale probabilmente dovremmo fare un campo calcolato, adesso nell'esempio specifico potrei farlo semplicemente anche con la pivot, ma è giusto per capire l'esempio. Se vado quassù e gli dico semplicemente ad esempio sinistra, sinistra, e gli dico prendi i miei primi tre caratteri, ok, adesso ho messo D, mettiamo tre, e lui in automatico, anche per il titolo, perché ragiona sulla colonna intera, il ragionamento che andate a fare qui, va a farmi il risultato dei primi tre caratteri del campo. Adesso ovviamente nella pivot io posso andare qui e dire CAS, faccio invio e lui mi cambia il risultato in automatico, senza utilizzare formule. Però questo è un esempio per farvi capire che potete ragionare quel campo come il concatenamento di prima, che con la pivot magari è più complicato, dovete appoggiarvi a un campo calcolato che ha un certo peso. Ok, se invece vogliamo ottenere un risultato, perché abbiamo detto se prendo dalla A alla C, quindi voglio prendere le colonne dalla A alla C, quando prima invio lui mi riporta sempre, adesso all'espansione, se vedete l'espansione, perché vedete l'espansione, il risultato va a coprire, va sopra un altro oggetto, quindi lui non riesce a calcolarsi, perché non è interrotto. Adesso sposto la pivot di uno, così trovo spazio e si compila. Vedete comunque che se prendo i primi tre campi, qua su, ok, lui mi li espone sempre nell'ordine con cui li trova nella base dati. E se invece volessi prendere reparto e prodotto, oppure reparto e periodo, oppure mettere il periodo prima e il reparto dopo, dobbiamo aiutarci con una funzione aggiuntiva. Quindi qui dobbiamo usare la stack oriz. Stack oriz. Che cosa ci permette di fare questa funzione? Ci permette di dichiarare più matrizi indipendenti e ottenere poi un risultato unico, ok, indipendente. Quindi in questo caso cosa faccio? Prendo la colonna A, che è appunto il mio reparto, e prendiamo il periodo, ad esempio, che è la colonna D. Quindi mi copio questa, faccio punto e virgola, qua giù chiudo la mia onda ovviamente, e qua ci metto la D. Ok, così ha preso il reparto e il periodo. Se adesso faccio invio, vedete che ho reparto e periodo. Potrei ovviamente anche invertirli, basta cambiare la compilazione della stack oriz. Ok, quindi questo è tutto quello che riguarda la compilazione del primo parametro, la selezione degli attributi. Possiamo già fare tantissime cose molto interessanti. Il secondo parametro, adesso vado un attimino a semplificarla, che così ci rimane corta. Il secondo parametro ci permette di selezionare quali campi andare ad aggregare, quindi i campi quantità. In questo caso io sto selezionando le vendite, le quantità anche qua, dalla E1 alla F16. Possiamo fare tutte le cose che abbiamo fatto con il raw file, quindi con il primo parametro, però dobbiamo ragionare che sono dei campi quantità. Quindi ad esempio, qui sto esponendo due campi così come sono, e poi faccio la somma con la funzione che c'è qua, e adesso lo vediamo meglio a breve. Però potrei anche fare un prodotto. Io potrei dire, guarda, fammi la colonna E, e me la moltiplichi, un po' come abbiamo fatto prima, per la colonna quantità, che è la F. Ok, quindi lui farà il prodotto di questa cosa. Quando ha fatto il prodotto riga per riga, lui farà la somma. Andiamo a vedere. Ecco che troviamo appunto il nostro risultato. Qui vedete che compare valore nel titolo, perché nel parametro che ho messo qui, gli sto dicendo, con il 3, crea i titoli in automatico, partendo dalla sorgente. Essendo che nel secondo parametro che ho messo qui, sui valori, ho preso due campi, ho fatto un campo calcolato, lui non riesce a capire qual è il testo da mettere lì, no? Quindi lui mi mette valore. Quindi in questo caso specifico, sarebbe il caso magari di non mettere i titoli, e metterli poi manualmente. Anche qui, come prima, andiamo sotto e vediamo, possiamo fare somma, moltiplicazione, tutto quello che vogliamo, e con stack oriz, possiamo prendere anche qui i campi quantità, se dobbiamo esporne più di uno, ed esporli. Ok? Quindi li possiamo esporre sempre prendendo una matrice, seconda matrice, terza matrice, e così via. Sempre con la funzione stack oriz che abbiamo appena visto. Il terzo parametro, che è l'ultimo di obbligatorio, ci permette di scegliere il tipo di aggregazione che possiamo andare a fare sul nostro valore che abbiamo esposto di qua. Quindi ricordatevi che poi lui ragiona riga per riga, no? Quindi iter, record, riga per riga. E poi fa l'aggregazione che dichiariamo sulla destra. Quindi abbiamo la somma, la percentuale di, sul totale, quindi riga per riga lui crea la percentuale basata sul risultato del totale. Media, mediana, conta numeri, conta valori, max, min, c'è veramente di tutto. C'è addirittura anche la deviazione standard, concatenamento, e c'è anche la lambda, che poi facciamo un esempio più tardi. Quindi andiamo, in questo nostro caso, mettiamo semplicemente la somma, che ci va benissimo, e premiamo invio, abbiamo appunto il nostro risultato. Qua mettiamo anche la colonna quantità, ma anche c'eravamo, ok. Il quarto parametro, il primo parametro opzionale, ci dice se vogliamo andare a esporre i campi oppure no. Quindi se andiamo qua, facciamo punte virgola, ci dice, guarda, adesso è sparito, no, non metterli, sì, ma non mostrare, no, ma genera, sì, e mostra, quindi di solito, tre, così se li prende dalla sorgente. Se non metto l'opzionale, ok, lui non mette i campi, perché prende sempre la prima opzione, ok, quando andiamo a prendere un parametro opzionale, e non lo dichiariamo, nell'elenco che lui ci propone, lui metterà sempre il primo, come default, quindi in quel caso non andrebbe a mettere i campi. Oppure potrei dire sì, ma non mostrare, quindi vedete che non me li mostra. Se vado a mettere il due, ok, me li mostra, però ci mette un nome automatico come risultato, quindi se prima facevamo il rapporto di vendita di quantità, comunque mi avrebbe dato come titolo valore 1, ad esempio. Quindi qui otteniamo appunto un risultato di questo tipo, ma diciamo che si usa o 0, che così me li dichiaro in automatico, oppure il 3, che secondo me è la cosa più semplice. Dopodiché abbiamo i totali subtotali, quindi di default, lui va a creare un totale complessivo, potrei dirgli, in questo caso non è il primo, vedete che non è il primo, perché se metto 0, lui mi toglie il totale complessivo, se metto l'1, lui mi mette il totale complessivo, quindi in questo caso il parametro di default è l'1, non è esattamente il primo. però anche qua abbiamo praticamente, no, non metterli, totali complessivi, ci sono anche in basso, e totali complessivi e subtotali, quindi se andiamo un attimino a vederli, vi ripropongo, abbiamo proprio questi, quindi con 0 non mettiamo nessun subtotale, qui mettiamo semplicemente i totali complessivi, qua abbiamo i totali complessivi e anche i subtotali, adesso mettiamo questo, e poi possiamo dire di mettere i totali complessivi in alto, oppure i totali complessivi e i subtotali in alto, rispetto che in basso, quindi abbiamo anche questa opzione, se adesso andiamo a metterli ad esempio anche i subtotali, quindi con il 2, vedete che lui qua crea il subtotale, cosa che potremmo fare anche con la pivot, no, clic destro, e andiamo a fare subtotali in reparto, vedete che otteniamo lo stesso identico risultato, una cosa che non vi ho ancora detto, è che la pivot sia autoformata in automatico, ma qui magari possiamo deloccare anche questa cosa, per dare i colori automaticamente, qui invece dovete andare a mettere delle regole, perché il risultato, adesso vedete che qui compaiono le righe, i bordi, i colori, eccetera, in automatico, perché sotto ho messo comunque una formattazione condizionale, quindi cosa ho fatto, ho selezionato un'area di gioco, sulla formattazione condizionale sono andato su gestisci regole, e qui adesso me l'ha un po' scassata così, ma diciamo che, vedete, gli dico dove la cella è vuoto, quindi gli ho detto, formata sulle celle che contengono, valore diverso da vuoto, quindi se è vuoto mi fai semplicemente il bordo, e la stessa cosa l'ho fatta poi con i titoli, mettermi il grassetto e mettermi il colore azzurrino, questo per dirvi che poi se volete andare a dare una formattazione sub totale, dovete giocare comunque con la formattazione condizionale, ok torniamo sul nostro 1, che ci bastano i totali classici, e andiamo al parametro successivo, il parametro successivo è l'ordinamento, vediamo sotto come l'ho messo, quindi abbiamo praticamente, dobbiamo dare l'ordinamento ai campi, quindi il campo è 1, il primo campo è l'1, il campo numero 2 è il 2, il campo numero 3 è il 3, questo riguarda gli attributi, quindi se voglio andare a dare un ordinamento recente, andrò a mettere un 1, e avrò l'ordinamento crescente sul risultato del primo campo, se poi invece voglio dare l'ordinamento crescente sul secondo campo, ci metterò il 2, quindi devo mettere il numeretto per scegliere il campo, innanzitutto il tipo di ordinamento, se lo voglio decrescente, semplicemente metto un negativo, quindi meno 1 mi fa il decrescente sul primo campo, meno 2 mi fa il decrescente sul secondo campo, se voglio andare a ordinare con più campi, devo andare a scrivere la formula in modo differente, devo aprire le graffa, quindi shift alt gr parentesi quadra, così apro la graffa e la chiudo, e qui ci metto sempre il numero del campo, quindi se devo farlo su 2 campi, e voglio farlo crescente su tutti i 2, ci metto 1, poi faccio lo slash verso destra, e ci metto il campo 2, in questo caso lui farà prima l'ordinamento sul campo 1, in senso crescente, poi lo farà anche sul campo 2, se diamo invio, vedete che lui va a fare l'ordinamento tra il campo 1 e il campo 2, sempre crescente, prima questo e poi questo, quindi questo è quello che riguarda l'ordinamento, ricordatevi le parentesi graffa per usare questo trucchetto, se avete la versione del software in inglese, qui è il posto dello slash, se non erro dovreste usare la virgola, adesso se usa la virgola va in errore, però se avete il software in inglese e non è lo slash, dovete usare semplicemente la virgola, andiamo al parametro successivo, i filtri, ok, qui è interessante, allora per fare un filtro su una colonna, quindi in questo caso io voglio filtrare ad esempio solo elettronica, cosa faccio? vado a selezionare la mia colonna, quindi qui vado appunto a selezionare la mia matrice, gli dico fammi uguale a elettronica, questo è un filtro semplice, se faccio invio vedete che il regroupa per mi ottiene, mi dà come risultato un regroupamento di soli record che sulla colonna reparto sono uguali ad elettronica, questo era un filtro semplice, se invece voglio andare ad applicare qualcosa di più complesso, come posso fare? questa è una tecnica, allora andiamo a togliere il nostro parametro, quindi il nostro filtro fatto sulla colonna del reparto uguale ad elettronica, lo togliamo, e basiamo il risultato del nostro filtro sulla colonna filtro, e basta, non diamo nessun altro parametro, premiamo invio, vedete lui adesso non ha filtrato niente, però se io andrò a filtrare, poi vi spiego come compilare questa colonna filtro, adesso lo sposto giù perché se vado a filtrare le righe, andrebbero a nascondermi poi le colonne, se io adesso filtro ad esempio casa, vedete che lui è andato a fare un filtro sul mio regroupa per, basato sul filtro che ho dato alla mia tabella, se vado a fare regione e seleziono nord, comunque funziona, adesso qui vedete che compare anche sud perché c'è un piccolo bug sul regroupa per in questo momento che dovranno fixare, sulle basi dati di questo tipo, quindi dove ho una base dati che non è un oggetto tabella. Il filtro, adesso faccio un ctrl z, come viene compilato? Devo semplicemente creare un campo calcolato a fianco alla mia base dati, dove ci metto una formula, una funzione, che cosa ho messo? Ho semplicemente messo subtotale 103, che è semplicemente se andiamo a vedere il 103, è conta valori, quindi 103, conta valori della cella A2. Poi io ho basato questa colonna così, quindi un conteggio, però io vedete che se vado a filtrare reparto, regione, prodotto, comunque funziona, perché lui sente questa colonna qua, sente se c'è sotto una formula, e riesce poi ad applicare il filtro sul regroupa per. Questo problema del bug che vi ho fatto vedere, non c'è se operiamo con una base dati, in cui abbiamo definito un oggetto tabella, quindi prendiamo la nostra base dati, facciamo inserisci, e premiamo su tabella. Gli diamo un nome, comparirà il menu contestuale struttura tabella, e qui gli diamo un nome ben definito. Così poi quando andremo a compilare la nostra regroupa per, tutti i parametri prenderanno praticamente questi valori, ad esempio qui sto esponendo solo reparto e regione, ok? Quindi anche qui non è che lo devo scrivere io, a mano, vengo qua, seleziono la mia area, e lui mi autocompila il codice in automatico. Valgono tutte le regole che abbiamo visto con la base dati normale, quindi se voglio prendere più campo, più campi, devo andare ad utilizzare la funzione stack oriz, o se voglio fare altre cose, comunque le regole sono le stesse. Però qui non c'è il bug, quindi se vado a fare un filtro su elettronica, ok? Vedete che lui filtra nel modo corretto, se vado a fare filtro su casa, filtra nel modo corretto, se tolgo il filtro qua e qui filtro nord, funziona, quindi qua il bug non è presente e funziona egregiamente. Ma la cosa più bella è che ci posso agganciare anche gli slicer, quindi faccio un clic a caso sul mio oggetto tabella, vado su struttura della tabella, premo su inserisce filtro dati, e qua posso andare a inserire tutti gli attributi che voglio, quando ho selezionato i vari campi, compaiono qui. Una volta che poi li ho un attimino formatati, vengo qui e faccio i miei filtri, casa, elettronica, computer, televisori, e quindi ho ottenuto un raggruppo pair dinamico, proprio come se avessi una pivot. E ricordatevi che poi gli slicer sono veramente dinamici, e posso, comunque anche loro hanno un menu contestuale, che posso andare a colorare, e fare tante altre cose interessanti. Ci manca ancora un però, se io non voglio compilare questa colonna filtro, perché mi dà fastidio, magari una base dati è grande, e inutile che vado ad appesantire ancora la mia base dati, possiamo evitare questa cosa. Infatti qui ho fatto un esempio di raggruppo pair, in cui faccio la stessa cosa, quindi faccio funzionare gli slicer, infatti vedete che se schiaccio funziona, però qui il filtro, che è qui, ve lo metto qua, ok, è questa parte qua, quindi andiamo qui, dovrebbe essere qui così. E tutta questa corte, questa pezza di formula che c'è qui, che adesso ve lo spiego, ci permette di evitare di compilare la colonna filtro. Che cosa vado a fare? Li dico, per riga, quindi che cosa fa per riga? Se entro, applica una funzione lambda a ogni riga, e restituisce una matrice di risultati. Sia per la funzione, per il parametro filtro, che per il parametro valore, possiamo utilizzare la funzione lambda, che ci permette di fare tutto quello che ci passa, per la testa, perché possiamo customizzare la funzione, in modo completamente customizzato, possiamo fare tutto quello che vogliamo. In questo caso, uso appunto per riga, gli definisco, la colonna reparto, su quale lei deve andare a lavorare, e poi gli do un altro parametro, e qui mi dice, vedete, matrice su quale lavorare, la colonna reparto, potrei anche lavorare con più colonne, e fare ragionamenti differenti, quindi anche qua, interessante, poi come posso andare ad applicare, vari filtri, e così via, e la funzione, la funzione che cos'è? Lambda, apro Lambda, gli do il parametro da calcolare, quindi X, che è praticamente questo campo qua, e gli dico, sub totale 103 di X, che è questo campo qua, e quindi ho replicato la stessa funzione, che ho messo sul campo filtro, qui esposto, ma qui è contenuto dentro, a raggruppa Pair, e quindi non è necessario, si adesso vado qui, e cancello questo, qui non va più niente, ma qui invece continua a funzionare, facciamo un po' di contro Z, torniamo indietro, ecco che così abbiamo introdotto anche la funzione Lambda, all'interno di raggruppa Pair, diciamo che possiamo veramente fare tantissime cose, con questa funzione, e ci sono delle belle tecniche, per ottenere i risultati molto simili alle pivot, e possiamo giocare anche con cose differenti, quindi l'attività del dato, customizzare magari il risultato di un dato, creare delle misure all'interno, senza fare magari campi calcolati e così via, questa è la nuova funzione Raggruppa Pair, se il video è stato il vostro regolamento, lasciate un bel pollizioni in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece volete sostenermi in modo incisivo, in modo che posso continuare con il mio lavoro, e portare altri video come questi, magari pensate a stipulare un lavoro momento, col tasto abbonati che trovate sotto il video, così potrete accedere anche a tutti i servizi, che offre il mio canale, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, presto, ciao!